Un saluto dalla redazione del Tg della mobilità. A Roma, sciopero del trasporto pubblico in vista per il prossimo lunedì 16 gennaio. Una protesta di 4 ore al mattino, dalle 8.30 alle 12.30, che potrebbe avere effetti sulla rete Atac, bus, tram, metropolitane e ferrovia termini 100 celle. La protesta non interesserà 11 collegamenti svolti per conto di Atac da altri operatori. Il servizio sarà regolare sulla rete di Roma TPL, la rete bus di Roma TPL e regolari anche i collegamenti di Cotral e Trenitalia. In tema di scioperi, i gestori degli impianti di benzina hanno proclamato un'agitazione di due giorni il 25 e il 26 gennaio. L'aumento del prezzo dei carburanti, dicono i tre sindacati che hanno indetto lo sciopero, scarica le responsabilità sui gestori. Lo sciopero degli impianti di benzina è previsto dalle 19 del 24 gennaio alle 7 del 27 gennaio. Per il momento è tutto, un saluto dall'ATG della Mobilità.